La campagna elettorale delle amministrative è finita, ma per Fratelli d'Italia, noi con Salvini, il centrodestra, c'è stato un risvolto a sorpresa. Sì, parrebbe da quanto è stato dichiarato, se sono candidato sindaco che noi appoggiavamo, poi da alcuni avvenimenti che sono stati resiutati alla stampa, che il candidato che ci aveva convinto con la sua gioventù, con la sua spirito ribelle e con la condivisione di un programma, in realtà fosse più interessato alla creazione di un docufilm sul cui suppongo lui voglia anche avere dei riscontri economici. Il che onestamente non era certamente, assolutamente, nelle intenzioni dei partiti erano supportato, men che mai, di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale, che anzi, in qualche modo si scusi sui elettori, se in qualche modo hanno sentito tradito la loro fiducia. Possiamo assicurare che per il nostro sacrificio, il nostro impegno e la nostra buona fede nel sostenere questa campagna elettorale contro la valute di questa città era reale, vera, c'era e continuerà ad esserci. Rao Russo è uno di coloro che si è candidato, quindi spesso in prima persona, ma Fratelli d'Italia e attorno a Fratelli d'Italia c'è anche un mondo di destra, una comunità, che forse non ha gradito sin da principio la candidatura di Ismaele Lavardera. C'erano state le perplessità del nostro mondo, le avevano rappresentate nelle sedi opportune, è stata una candidatura che peraltro è fortemente voluta da Alessandro Pagano, da noi con Salvini. Diciamo che poi fino all'ultimo abbiamo cercato di lavorare per soluzioni unitari al centro-destra che non fossero quelle di Ferrandelli, ma gli alleati hanno scelto altro e sono stati puniti anche da questa scelta. in qualche modo, noi a un certo punto abbiamo, ribadisco, ci siamo trovati un candidato che pensavamo condividesse con noi il nostro stesso spirito antipalude e in realtà evidentemente è interessato ad altro. Noi continuiamo a essere interessati invece a fare realmente opposizione. Qualora fosse vera l'ipotesi di un docufilm, quale saranno le azioni che Fratelli d'Italia prevede di mettere in campo? Considerando che Lavardera è andato anche a Roma a trovare Giorgio Meloni. Noi non abbiamo assolutamente nulla da temere da sue eventuali immagini carpite in maniera non visibile. Quindi noi siamo assolutamente tranquilli. Pur non di meno stiamo ragionando con dei nostri legali per tutelare l'immagine del partito, il rispetto della volontà degli elettori, perché quello che a noi diciamo più non va giù è il fatto che al di là di quello che volevo raccontare, che lui ha già detto che non ha affatto per non inficiare la campagna etorale, lui in realtà probabilmente essendo più interessato a questo docufilm piuttosto alla campagna etorale in qualche modo ha, riteniamo, disturbato l'annamento di questa campagna etorale. Ribadisco, noi non abbiamo nulla da temere. Il problema è che noi non vogliamo essere complici di un'operazione commerciale. Noi facciamo politica, non facciamo sciò. Se si dovesse tornare indietro nel tempo, a giudizio del portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, quale sarebbe stato il candidato invece ideale per il vostro partito? Per il vostro partito, più che un candidato ideale, c'era un profilo ideale. Un uomo, chiaramente centrodestra, in una coalizione coesa, omogenea programmaticamente, e che era quello per cui noi ci siamo spesi per mesi. Abbiamo l'avvocato Greco, l'avvocato Bellavista, con l'avvocato Armao. Sono stati gli altri che hanno voluto perdere questa città e fare vincere Orlando.